Benvenuti in diretta dalla libreria Bocca di Milano. Fede e speranza è quello che ci vuole in questo periodo che è allucinante a dire poco, nel senso che anche ieri aperto tutto il giorno non ho visto un cane, magari venissero loro a comprare libri sarebbe meglio. Comunque detto questo, la speranza per questi benedetti tavoli di Carlo Apollo da mettere fuori in galleria c'è sempre, per il momento tutto tace ma non importa, ci riaggiorneremo lunedì mattina quando riaprono gli uffici del Comune di Milano, non demordo. Allora, proprio perché ci vuole Fede e speranza in questo sabato 1 agosto 2020, oggi vi voglio parlare di un'impresa che rispetto ai miei tavoli è stata sicuramente più difficoltosa e più titanica come verrebbe da dire. Appunto la ricomposizione nella chiesa di Santo Fronio a Bologna del politico Griffoni. Praticamente questo altare che era stato costruito per la cappella di questa famiglia Griffoni nella Bologna dei Ventivoglio che gareggiava per ricchezza e potere soprattutto da un punto di vista artistico con la Ferrara degli Este e la Firenze dei Medici richiamò a sé i due più grandi artisti del periodo che tra il 1470 e il 1472 rivoluzionarono proprio il sistema delle arti e furono, erano Ercole dei Roberti e il del Cossa. Qui praticamente crearono questo capolavoro del Rinascimento che ai noi nel 1700, 1725-31, quindi i primi decenni del 1700, Aldovrandi che acquistò l'eredità appunto da Griffoni decise di smembrare per far posto ad altri arredi e trasformare le tavole di questo politico in quadri da stanza. Oggi com'è la situazione? La situazione attuale è che questo politico è smembrato e diviso nei maggiori musei internazionali, dal Louvre alla National Gallery di Washington, insomma è ovunque. Però con questa mostra, con il catalogo edito da Silvana, finalmente il capolavoro è ricostituito. Una particolarità, praticamente la cornice linea che teneva insieme questo politico era stata realizzata anche questa da Agostino De Marchi, che era considerata all'epoca uno dei massimi intagliatori e creatori di opere in legno. E con questo è tutto, il catalogo, ripeto, Silvana Editoriale, 34 anni, 34 euro, sì 34 anni non ce li ho più io, ma costa 34 euro ed è acquistabile da Bocca in Galleria. Una buona giornata e a domani!